A noi non piace la denuncita, prima di arrivarci poniamo in essere una serie di azioni per non arrivare perché sembra una cosa brutta che non piace. Però è chiaro che su un argomento così delicato e avere una delibera che vede un funzionario estensore e non vede la firma di altri due dirigenti, ma soprattutto nella delibera si dichiara il falso perché c'è scritto che il dottor Angelo Muraglia, il direttore regionale della sanità, ha dato il parere favorevole sottoscrivendo la delibera, questo non c'è scritto, non c'è la firma in quella delibera e quindi credo che ci sia qualche problema. Ma non è una svista perché non è accaduto solo in questa delibera che è la 495 del 9 settembre, è accaduto anche sempre, l'oggetto della delibera è sempre il project finanziario ospedale di Chieti nella delibera 540 del 29 settembre. Anche in quel caso c'è un solo funzionario estensore della delibera che peraltro poi è la moglie del segretario particolare del presidente D'Alfonso Enzio Del Vecchio, la dottoressa Capodicasa che firma e attesta che c'è la firma del dottor Muraglia, direttore regionale, invece la firma non c'è come non c'è la firma degli altri due dirigenti. Quindi è chiaro che mi sembra che oltre il parere contrario della ALS che già c'è stato a suo tempo, anche la dirigenza e il direttore regionale siano contrari perché non appongono la firma. Ci si può obiettare che c'è la firma del direttore generale che apportasse le firme degli altri, non è così perché il dottor Rivera, direttore generale, è stato condannato dal Tribunale dell'Aquila a marzo di quest'anno proprio perché non ha i requisiti. Ci sono tutta una serie di atti che vengono posti nell'ultimo periodo che pongono un problema di legittimità, atti che potrebbero far scatenare una serie di ricorsi, una serie di condensiosi, perché sono atti peraltro che riguardano i fondi comunitari, sono atti che riguardano il trasporto minimo, su cui peraltro c'è anche un condensioso con i concessionari privati, potrebbero far nascere dei condensiosi enormi per la regione Abruzzo, per il prossimo governo regionale e i cui danni veramente sono difficili da calcolare.